La malattia cottosa nel corso degli ultimi anni ha ricevuto una crescente attenzione da parte della letteratura scientifica in ragione della sua elevata prevalenza. Oggi senz'altro rappresenta la forma di artrite acuta nella popolazione anziana dei più frequenti riscontri, ma anche e soprattutto in ragione del crescente numero di evidenze scientifiche che dimostra come il paziente con malattia cottosa presenta un aumentato rischio cardiovascolare, cioè da ricondurre evidentemente e alla condizione infiammatoria che contraddistingue questa condizione clinica, ma anche la frequenza e coesistenza di comorbidità cardiovascolare, ipertensione in primis, ma anche sindrome metabolica piuttosto che diabete mellito. In realtà la relazione è così stretta tra malattia cottosa da un lato e fattori rischio cardiovascolare che fa pensare ad un nesso fisiopatologico tra queste due condizioni in un rapporto fondamentalmente di potenziamento reciproco che fa sì che il paziente cottoso, iperteso, con sindrome metabolica piuttosto che un diabete presenta un rischio cardiovascolare è particolarmente rilevante. Il naturale derivato di questa associazione è l'opportunità di tenere sotto controllo l'uricemia. Oggi c'è una posizione piuttosto definita, a parte la letteratura scientifica, nell'identificare un unico target di uricemia che è di 6 mg decilio per la popolazione generale, quindi è bene tener conto che nel controllo di tutti gli elementi che possono comporre il mosaico del rischio cardiovascolare un'attenzione particolare debba essere posta anche a livelli normali di uricemia. Ovviamente non certo dovremmo trattare con farmaci iporicemizzanti tutti i pazienti che presentano più di 6 mg decilio ma certamente un momento d'attenzione. La cosa certa è che nel momento in cui noi decidiamo di approcciare un trattamento iporicemizzante abbiamo un target da raggiungere che è 6 mg decilio, al di sotto del quale noi da un lato preveniamo la comparsa di reacutizzazioni cottose, dall'altro abbiamo la ragionevole certezza di poter controllare in maniera adeguata quella quota di rischio cardiovascolare connessa al dismetabolismo dell'acido urico. È evidente che trattare un paziente con trattamenti iporicemizzanti vuoi inibitori l'axantino-ossidasi, vuoi più modernamente una combinazione dell'inibitori l'axantino-ossidasi più un farmaco urico-surico uguale all'etino-red, ha la possibilità evidentemente di implementare il profilo di rischio cardiovascolare del paziente ma se non si raggiunge il target minimo di 6 mg decilio si sta facendo un trattamento cosmerico che non giova a nulla.